Da poche ore Vittorio Catone è il nuovo presidente della SAGA, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, una nomina di grande impegno, di grande prestigio. Assolutamente sì, hai detto bene, grande prestigio, onori e doneri, da qualche giorno già siamo al lavoro per il bene dell'Abruzzo e per la società aeroportuale. Bisogna essere onesti, noi ereditiamo una situazione aeroportuale molto positiva, nonostante un anno orribile vissuto anche dall'aeroporto di Pescara, causa pandemia. Oggi da Pescara ci sono 32 destinazioni, onore al merito di chi ci ha preceduto per l'incremento di queste rotte. Parallelamente abbiamo trovato delle situazioni un po' deficitarie dove dobbiamo metterci al lavoro e migliorare determinate situazioni. Se posso permettermi, uno dei nostri obiettivi sarà quello di mettere in rete interi servizi della regione Abruzzo, quindi parlo oltre all'infrastruttura aeroporto, il servizio turistico della regione Abruzzo e gli operatori turistici e commerciali della regione Abruzzo. Oggi sotto questo punto di vista siamo un po' carenti, la nostra mission sarà quella di migliorare tutto questo aspetto. Una priorità è mantenere costante la pandemia perché da un giorno all'altro potrebbero modificarsi dati e criteri per cui la società aeroportuale, l'aeroporto deve essere pronta a qualunque tipo di cosa, anche ipoteticamente a tamponare determinati voli. Obiettivi vi sono, ereditiamo appunto una situazione dove a breve dobbiamo assolutamente mettere in atto il prolungamento della pista che ci consente di entrare in altri mondi e in altri mercati e questo dovrà essere uno dei primissimi obiettivi e poi modificare e migliorare tutto l'aspetto riguardante l'informazione e la comunicazione che oggi, ahimè, è molto carente all'interno dell'aeroporto. Io condivido molte parole del Presidente Paolini, tra cui anche quelle che ci vuole un management, un consiglio di amministrazione che è pronto a lavorare per il bene dell'Abruzzo e questa è la mia volontà e la volontà dei quattro consiglieri di amministrazione. Fa specie che poi il manager, lo dica lui, che insomma sicuramente ha dimostrato di essere all'altezza di Presidente del Consiglio di Amministrazione ma non mi risulta una grande esperienza nel settore prima della nomina a Presidente della società aeroportuale.